ok ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo perfetto ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo E' bella a tutti ragazzi E' bella in questa nuova live Di Fede di Gagliustiziero Ok Posso Che posso Posso regalarvi Le cose da oggi Soltanto io devo prima farmi dei V-Buck Per regalarvi E vi regalerò a ognuno Che si iscrive al canale Cioè no a ognuno che si iscrive A ognuno Quando abbiamo tipo i 100 iscritti O 50 Quando abbiamo i 50 iscritti Regalo un balletto a uno di voi A sua scelta Non è che ho 2000 V-Buck per dichiarare 30 cose Però A 50 iscritti Un balletto A 100 un piccone A 150 Un deltaplano A 200 La skin da 800 A 250 La skin da 1200 E da 300 La skin da 2000 Ovviamente Basta Così ognuno di voi si iscrive Portate i camici In live E dice sono venuto per E io poi mi segno tutti E niente Poi giocheranno con me E tutto Aspetta arrivo subito E io poi Grazie a tutti. Ok. Ciotto. Bella. 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 Stay over. mi arrivo nei messaggi quindi togliamo la sette ok andiamo con una singola ok ok andiamo con la partita come stai? bene 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 te come stai? bene quanto cazzo è più grande buongiorno si mette la roma il bucho di ok allora bisogna un po' di buttarsi non voglio buttarmi più in città non ho fortnite mi fa tutto occhio va bene la stessa così che sono la sola a chi c'è a chi per pinzare però non va bebi, 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 va descontra lì come un liragli tracuì come un liragli tracuì, bebi, bebi tracuì mi rimori un po' della mia casa non preghi ora, non preghi ora, what, non preghi ora il botto dov'è cacchio stava? questo fucile praticamente ti permette di sparare e non gli altri diretti water quasi stato water baby, bebi, bebi bebi, bebi, bebi tranquillo condividi la live te che sei live almeno te almeno te andiamo con la seconda partita andiamo con la seconda partita stella l'occa stella l'occa stella l'occa stella l'occa stella l'occa baby, bebi stella l'occa stella l'occa no 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 Ma perché in casa mi ha gridato, aspetta? Ma perché stavo scendendo questo, scusatemi Cioè, sono usciti tutti, ora dovrei andare in qualche parte che non c'è nessuno, praticamente Scusatemi Non so veramente cosa dirvi Non so, non so, non so, non so Sicuramente a Scegliamo ci farò un botto di pietra Non so, non so Non so, non so Non so, non so Non so, non so Non so Non so Non so Sì, sto ritornando a laggare Non so Prima non mi scrivetemi Non mi scrivetemi Non mi scrivetemi, non mi scrivetemi Cioè Non è normale La cosa è Dice un po' di nozze a questo qua Non mi scrivetemi La connessione in sto periodo, quindi laggo troppo Com'è? Com'è? Cosa è? Cosa è? Cosa è? E' là? E' là, scusatemi si lagga Io ce l'ho, io ce l'ho Non so Spettate Sssh Mamma mia Sssh Sitta Non so Non so Non so Ma è la cosa è? Non so Non ci vuole Ma è la cosa? Ma è la cosa? Ma è la cosa? ah tutti i cosi che mi scrivo mi manca quello che mi scrive dai no ma che l'ha chiamata ma porco vabbè resta un po' oh sti gruppi hanno rotto no 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 mi risistallo tutto no no hanno rotto gli uomini porco dio ma una live di sera non c'è una live di sera madonna immacolata con questo vestito che perdo il nome per il lab di merda giuro che tolgo la live la sto bot c'è tipo un motore che ti kille 3 secondi madonna se non c'è un lag madonna già ti avevo kille 3 secondi ti kille a pavo easy manzi con realtà buona disco pavo ma proprio in molti modi vogliono parlare quando non lo faccio i menti si mettono a parlare tutti per i pavoli e poi avete capito ooo ah cuccio avete capito non lo spiego easy easy il gatto per il mi sembra un po' troppo scavantato ma non lo capisci che stavo parlando non me ne frega un cazzo spegni e fai i compiti ancora continui con sto parlando mamma prima fai i compiti e poi parli quanto vuoi giochi quanto vuoi ragazzo te lo dico tanto fiata non volerò uscire iscriviti al canale Grazie.